Buongiorno e ben ritrovati dal forum della pubblica amministrazione, siamo qui in diretta dalla fiera, la ventitresima edizione, ho il piacere di presentarvi il dottor Antonio Giordano che è direttore generale dell'azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, buongiorno e ben trovato direttore, la sua azienda raccoglie tre amministrazioni diverse, tre ospedali, perché questa esigenza di unificarli? La programmazione regionale della campagna negli ultimi anni si è caratterizzata da una serie di misure di accorpamenti, in effetti prima c'è stata una fase di accorpamento delle aziende territoriali, riducendo il numero e portandole più o meno agli ambiti provinciali, fa eccezione solo la provincia di Napoli che per le quantità di abitanti era difficile poi da gestire con un'unica azienda e poi ci sono state anche una serie di fenomeni di accorpamento di aziende ospedaliere, noi siamo la prima che si è concretizzata poi nei fatti, ripeto, figlio di una programmazione regionale e deriva dalla unificazione di due ex aziende ospedaliere, il Monaldi e il Cotugno, che erano due aziende assolutamente storiche nella realtà regionale, la prima si è occupata storicamente un ex sanatorio che poi negli anni si è caratterizzata per patologie cardiorespiratorie, oltre a una serie di altre specialità che si sono aggiunte, la seconda, il Cotugno, era un'azienda prevalentemente di malattie infettive, cioè curava persone affette da patologie infettive, la storia del Cotugno è nota, credo, in tutta Italia per l'epopea del colera, per tutte le vicende legate all'AIDS ed era l'unico ospedale specialistico di malattie infettive di tutta l'Italia meridionale. Poi a queste due si è aggiunto un presidio prestigiosissimo della Napoli 1, che è il centro ortopedico-traumatologico, il CTO, che ha una sua storia, è un presidio ex inail, che ha una sua storia di ortopedia e riabilitazione. Questa unificazione è stata voluta dalla proclamazione regionale fondamentalmente per mettere insieme professionalità e specificità e offrendo così dalla sinergia di queste professionalità e specificità un'offerta assistenziale a tutto tondo molto più completa per i bisogni di praticamente qualunque patologia. Noi in questo momento anche in forza di una convenzione con la Seconda Università di Napoli abbiamo anche delle unità operative di neurochirurgia e di neuroradiologia. Di fatto, tranne la ginecologia, trattiamo praticamente tutto, dalla diagnosi alla riabilitazione e questo vuole essere il nostro messaggio organizzativo. Un'offerta completa, tra l'altro lei mi diceva prima di questa diretta che viene anche da un'esperienza di direzione sanitaria, quindi ha una lunga carriera sulla parte proprio organizzativa del sistema dei servizi. Ecco, questo come lei sa, come lì mia amica ci interessa in maniera particolare perché ci rivolgiamo al cittadino e che auspichiamo naturalmente ci sia sempre la massima efficienza di queste strutture. Cosa pensa lei di questo attualissimo tema della razionalizzazione dei costi? Dal punto di vista sanitario ritiene che sia un errore parlare di tagli o come la pensa su questo? Io ritengo che sia assolutamente necessario e indispensabile, più che parlare di tagli, parlare di razionalizzazione dell'offerta, ma mi permetto una digressione, io praticamente da quando ho iniziato a lavorare, dato che ho iniziato, come diceva lei, a lavorare in direzione sanitaria, mi sono sempre occupato di umanizzazione, non nel senso classico o perlomeno quello inteso di migliorare i rapporti nei confronti dei cittadini e delle persone che hanno dei problemi di salute, che questo credo che sia un dovere descontato e lo dovremmo fare tutti, ma anche nella logica di immaginare che cosa il cittadino ha bisogno e nei vari momenti in cui abbiamo riflettuto sull'umanizzazione ci siamo resi conto, e ritorno alle motivazioni dell'azienda, ci siamo resi conto che il cittadino soffre di questo essere sballottato da una parte all'altra, soffre di questa mancata complessività delle cure, frequentemente si va in un ospedale, si viene trattato per una patologia specifica, poi dopo sbattuti a casa e tutto il resto delle problematiche accessorie diventano poi responsabilità o comunque cura del cittadino medesimo o della sua famiglia. Noi abbiamo voluto costruire questa azienda e tentiamo di ragionare su dare un'offerta che sia complessiva, in maniera che il cittadino si senta preso in carico realmente, da un punto di vista sanitario e da un punto di vista assistenziale. Tornando quindi poi al problema dei costi, è evidente che un'offerta di questo genere semplicemente nell'azione sanitaria comporta una riduzione dei costi, magari non nell'immediato o sullo specifico ospedale, ma dei costi sia sociali che dei costi complessivi della collettività, perché se io riesco a gestire il paziente complessivamente, questo non ha la necessità di dover ritornare in un'altra volta in un ospedale o in un altro studio per fare altre prestazioni, diventa evidentemente più economico, sicuramente più efficace. Certo, quindi organizzare meglio il servizio per l'attenzione alla razionalizzazione dei costi, mi sembra un'ottima soluzione. Senta, per quanto riguarda la vostra presenza qui al forum della pubblica amministrazione a Roma, che cosa proponete al cittadino che visita questa fiera e che incappa nella vostra amministrazione? Allora, dottore, prima di tutto noi veniamo al forum o ad altre amministrazioni per osservare ed imparare, perché riteniamo che sia assolutamente necessario avere l'umiltà di immaginare che esistono realtà migliori della tua e che tu sei dal confronto con altri, puoi verificare il tuo livello di servizi e puoi verificare, apprendere, vedere cose nuove e magari tentare di implementarle nella tua attività. Quindi io credo che l'ascolto l'umiltà, la visione. Poi, molto modestamente, abbiamo pensato di portare qui delle nostre esperienze. Abbiamo fatto da poco un portale nuovo, interessante, secondo me facile da usare, che prevederà anche il pagamento online e quindi l'abbiamo messo a disposizione di tutti, accettiamo le critiche di tutti, anzi i consigli migliorativi. Poi abbiamo portato una nostra esperienza che riguarda fondamentalmente, la nostra esperienza poliennale, che riguarda fondamentalmente delle attività di prevenzione che il Cotugno, in quanto azienda ospedale di malattie infettive, ha fatto negli anni, cercando di spiegare in maniera semplice a tutti che cosa si può fare per ridurre il rischio di infezioni sessualmente trasmessibili o trasmessibili per via ematica. E questo è attraverso una serie di software che sono a disposizione nello stand. Abbiamo partecipato ad un convegno, perché siamo interessati ad occuparci di cloud consulting, quindi di messa a disposizione di informazioni in rete e ovviamente per addetti ai lavori e per poter tentare di omogeneizzare meglio le prestazioni dei nostri tre ospedali. Quindi voglio… è varia l'offerta, ma ribadisco, siamo qui anche per vedere, per osservare, per imparare e per sperare che poi questo possa diventare un know-how acquisito da parte dei nostri. Questo lo trovo estremamente interessante anche perché l'attenzione per le nuove tecnologie, soprattutto per chi come lei ha un ruolo di direzione generale e quindi direi di governo complessivo di tutta la macchina dell'amministrazione è essenziale. Le faccio una domanda. Per quanto riguarda le nuove tecnologie, lei ritiene che i servizi a distanza, che una struttura come la vostra così specifica possano aiutare il rapporto con il cittadino, anche magari per bypassare quelle difficoltà quotidiane, vedi il traffico, vedi le file, vedi anche il tempo, le risorse a tempo che è sempre più scarsa nella società odierna. Sicuramente sì, la società attuale va in questo senso. Dobbiamo tentare di creare condizioni per cui il cittadino abbia il meno disagio possibile ed è esattamente in linea con le cose che dice lei, ma c'è di più. Questo non aiuta solo il cittadino, aiuta anche gli operatori che riescono a lavorare in maniera meno pressata da esigenze quotidiane, da folle quotidiane e quindi di conseguenza offrire un servizio migliore. Vorrei però precisare un aspetto, io credo che tutti gli strumenti tecnici aiutino, noi non dobbiamo però innamorarci dello strumento pensando che nello strumento troviamo la soluzione ai nostri problemi, noi dobbiamo lavorare seriamente con competenza, facendo ogni giorno il nostro lavoro di medici, chi fa il medico, di professioni sanitarie, chi fa le professioni sanitarie, di amministrativi, chi fa gli amministrativi e utilizzare gli strumenti senza innamorarcene ma con grande attenzione a ogni novità che da essa deriva. Faccio un esempio più classico per spiegare, noi ci siamo dotati da poco del nuovo robot da Vinci che è una macchina che serve ad aiutare le chirurgie, facciamo operazioni robotiche in quattro discipline, sperando che un domani si possa arrivare anche ad una quinta, quindi decisamente un momento importante. Però non è il robot che risolve la pratica chirurgica, è l'abilità del chirurgo che attraverso il robot riesce a migliorare le sue prestazioni. Quindi la macchina è un mezzo, i mezzi sono tutti interessanti ma dobbiamo fare attenzione a non individuarli come la risoluzione dei problemi, altrimenti corriamo il rischio di attenderci dal mezzo più di quello che il mezzo può dare. Senz'altro, c'è un cliché purtroppo diffuso in Italia, quello della mala sanità, come dicono gli esperti del settore, un caso di mala sanità fa più eco di mille casi di buona sanità, quindi da questo punto di vista la comunicazione anche di esperienze ben riuscite, anche di casi buoni riusciti, anche se vogliamo la statistica e la comunicazione in particolare, come possono aiutare anche il mezzogiorno ad uscire da questo vortice di negatività che oramai si è diffuso nella popolazione? Come è tristemente vero quello che lei dice, talvolta appunto un caso di mala sanità fa tanto scalpore e ci dimentichiamo che per esempio noi facciamo 40.000 ricoveri l'anno e che pure significa 40.000 risposte di salute, magari non tutte totalmente efficaci, ma comunque 40.000 risposte di salute. Come possiamo uscirne? È una bella domanda, alla quale francamente non credo di avere una risposta esaustiva, o perlomeno non ce n'è una. La mia sensazione è che bisogna riflettere sulle condizioni che determinano la mala sanità, una di queste è l'aumento della vita media, le sembrerà assurdo, però l'aumento della vita media determina una ripetizione degli accessi in ospedale e ovviamente ogni accesso è sempre fatto con qualche anno in più e con qualche acciacco in più e talvolta gli ospedali non sono costruiti per immaginare risposte a persone anziane con patologie croniche. Dovremmo tentare di riflettere un po' meglio sulla progettazione ospedaliere e sui percorsi. Ma è vero che al sud la dinamica dell'accompagnamento del malato in casa è migliore rispetto a quella del nord? Forse è una questione culturale, cosa ne pensate? Il malato al sud rimane di più in casa, la famiglia si stringe di più al sud attorno al malato rispetto a quello che succede al nord? Che c'è? Più freddo il nord? Io non so se quello che lei dice è vero, l'impressione è che lo sia vero, probabilmente dipende dal fatto che al sud le famiglie ancora di tipo patriarcale, voi per motivi sociali, voi per motivi economici, voi per motivi culturali sono maggiori rispetto al nord. è evidente che dove la maggior parte dei cittadini vivono da single in appartamenti specifici e diversi dagli altri è abbastanza evidente che quando si sta male qualche difficoltà in più la si deve avere. Forse tra virgolette lo stare insieme come nuclei familiari che è una caratteristica più forte nel mezzogiorno rispetto ad altre regioni d'Italia, anche se io ritengo che anche in tante altre regioni d'Italia ci siano queste caratteristiche, non è mica vero che il luogo comunino deve essere, però questa cosa dove c'è certamente aiuta. Benissimo, io direttore la ringrazio veramente, quello che mi ha fatto più piacere oltre a conoscerla è individuare alla professionalità una grande umanità e sono convinto che tutta la popolazione, in particolare quella che raccoglie i servizi che la sua struttura offre ne beneficerà senz'altro. Io le auguro un grandissimo in bocca al lupo. La ringrazio anch'io, è il nostro dovere. Grazie.